L'avete preparata bene, in che modo pensi di giocarlo? Sul piano tattico credi di continuare un po' sulla linea delle ultime due Coppa Italia? No, ancora vediamo un attimo. L'abbiamo preparata, mi auguro. In questo momento le partite sono importantissime e difficili. Udine, anche se sembra che sia facile, abbiamo vinto lo scorso anno ed era 30 anni che il Verona non vinceva Udine. La si dice tutta sulla difficoltà di questa partita, del momento che sicuramente l'Udinese attraversa, dal punto di vista psicologico, di risultati, di numeri, di classifica, meglio di noi. Quindi noi dobbiamo fare una partita veramente importante contro una squadra che sta molto bene e che vorrà dare continuità, come ho letto, ai risultati che stanno facendo. Infermeria, qualcosa è recuperato? C'è parte Martic, in realtà. Non so se poi sia chiaramente... Sì, sì, Matteo, solo Martic, non viene neanche Raffael che si è fermato e non viene Juanito. Io Anita non l'abbiamo recuperato, quindi siamo un po' aumentati dall'ultima volta e adesso va così. Però mi piaceva anche sottolineare, noi in quattro anni che sono qua, insomma, è la prima volta, ma mai abbiamo avuto più di uno o due infortunati in tutti questi anni, quest'anno è così. Quindi questa la dice un po' lunga su tante cose e dobbiamo andare a oltre. Il punto di vista che Udinese hai trovato? Un Udinese che arriva da... Era un momento non facilissimo, poi Coppa Italia è andata avanti e soprattutto ha espugnato San Siro con una prestazione di valore. Molti escono dei momenti negativi, toccherà anche a noi. Prima o poi. Si spera prima, quindi si spera, più che altro, quindi una partita così, quindi loro vengono alla vittoria a San Siro. La classifico quant'altro, dice tante cose. Noi abbiamo fatto una partita, credo, su tanti aspetti, per alcuni aspetti positiva, con tante difficoltà, però è indubbio che, insomma, quando un po' di serie di risultati che non arriva la vittoria, quello manca. Quindi andiamo a fare questa partita. Poi io credo che adesso sia importante, proprio, al di là della prestazione, cominciare a fare i punti, quindi dobbiamo fare punti. Nella tua carriera è un momento inedito o nei passati di così? Ma non conta. Ognuno ha le sue esperienze, ma credo che sia lungo, non credo, non lo so, non mi ricordo. Poi uno può aver fatto anche 40 partite senza aver perso, quindi quello positivo, uno meno positivo. Le parole credo che lasciano il tempo che trovo a noi per pensare al presente. E il presente è questa partita. Al futuro ci penseremo. E al passato, se ti guardi dietro, è stato tutto bellissimo. Quindi adesso non è un momento felice, ma ne abbiamo vissuti di ineguagliabili, di veramente incredibili. Adesso è un momento in cui bisogna pensare diversamente. Senti Andrea, in questo momento ti è stato più vicino Tony in campo o Tony in campo o Setti e Sogliano fuori dal campo in questo momento? Ma siamo stati vicini tutti. Fate sempre questi paragoni o contraposizioni. Io credo che siamo tutti dentro a un momento di difficoltà generale. E quindi non è che dirlo, uno dice una cosa, noi sappiamo che abbiamo avuto difficoltà, ne abbiamo, ma ne incontreremo anche domani. però siamo anche consapevoli che le cose possono anche cambiare. La costa consapevolezza, poi, credo che sia più importante, più responsabilizzante, più responsabile se viene accettata. Quindi noi l'abbiamo accettata, credo che sia un campionato così, tanti infortuni, tante cose. Un campionato in cui devi lottare partito a punto, dopo punto, partito a dopo punto. Questo è quello che ha detto queste 14 giornate, tranne che magari ne vinci 10 di fila. allora potremmo pensare diversamente, però per adesso è così, quindi non dobbiamo dimenticare quello che è stato. Noi, dal punto di vista tecnico, abbiamo dimenticato tanto tempo. E quindi dobbiamo pensare a vivere la giornata, di lottare partita dopo partita, palla su palla, punto su punto. Questo deve essere lo spirito della squadra, lo spirito che ha espresso la società, l'allenatore e i suoi giocatori. Io esco un attimo da questo tipo di domande per chiederti un commento su questa sfida tra Tony e Di Natale, che tra l'altro sono cresciuti insieme. Eh, due bei vecchietti. Beh, che dire, due campioni in campo, e l'hanno dimostrato con, non so di Natale quanti go, 200, Luca 300 quasi, mi auguro che arrivi presto a questi 300 per noi anche. E di Natale 200, quindi i numeri dicono, grandi giocatori, ma io Totò non l'ho conosciuto di persona, ma anche lì, uomini importanti, quindi non ci può essere uno senza l'altro, quindi grandi personaggi, grandi giocatori, è una sfida difficile, perché Totò è un giocatore in casa o fuori, è un giocatore che non ti perdona il primo errore, quindi dobbiamo essere bravi a non commettere errori. Luca sta facendo benissimo, penso che domenica con la Sapa ha fatto una grande partita, e deve dare continuità anche a lui, quindi noi contiamo molto sull'altro, è ritornato al gol, e al di là del gol, proprio la prestazione è stata importante. Stramaccioni più o meno un'oretta fa, auguro a Mandorlini di continuare ad allenare il Verona, perché è un'ottima squadra. Io sono sereno, non ho pensieri, dormo serenamente, perché faccio un lavoro che mi piace, e non ho nessun tipo di problema, quello che è oggi, è la mia preparazione alla partita, la voglia di giocare, credo che sia la stessa voglia dei giocatori, domani non lo so, non mi interessa, gli auguri lo ringrazio, ma mi tocco, e basta, quindi è una partita difficile. Ne beneficia anche Nico Lopez del lavoro di Luca Toni, soprattutto quando gli gioca così vicino? Prima quando gli giocava un po' più lontano faceva gol, adesso gli gioca vicino non fa gol, ma dove sta la verità? Io non so mai, no, a parte le battute, Nico può giocare vicino, largo, attacca la profondità, ecco, magari avrei potuto dire anche Nico Lopez, giocatore che sta giocando con continuità, quello che magari non aveva a Udine da altre parti, quindi siamo contenti, e anche lui deve crescere, perché attraverso questa crescita poi insomma si diventa giocatore, adesso lui è ancora giocatore, proprio con la G maiuscola non lo è, è un giocatore di talento, e quindi anche queste esperienze, magari non proprio in momenti felici della squadra, credo che possono aiutare anche lui a dare di più, a prendersi le responsabilità che ti fanno crescere prima.